Cari amici di Milano 1, come vedete siamo nella splendida piscina dell'hotel Cormoran a Cattolica e sono anche beato tra le donne con tutto lo staff direttivo del hotel Cormoran dove onestamente io faccio qualche mia vacanza e mi trovo molto bene ma anche loro ci diranno qualcosa, allora intanto il signor Valerio a capo di tutta la direzione diciamo Sì, io assieme al mio fratello Giorgio, siamo appunto dirigendo l'hotel Cormoran con passione e con entusiasmo perché ci dà tante soddisfazioni Certo, si vede poi questa splendida piscina che tutti invidiano, soprattutto il pubblico giovane con quel trampolino lì Esatto, infatti i ragazzi vanno passi, sono sempre qua in piscina la mattina o la sera Facciamo un po' il punto della situazione perché l'hotel Cormoran si distingue per le tante camere disponibili e poi dei fantastici terrazzi però magari raccontateci qualcosa voi La nostra struttura ha delle camere che sono molto ampie, sono adatte proprio per nuclei familiari perché ogni camera arriva fino a contenere quattro persone hanno tutte un bel balcone ma veramente grande, attrezzato con tavolini e sedie, tutte ovviamente climatizzate con tutti i servizi la cassaforte, il frigobar, il box d'occia, tutto quello che serve, vista mare, il balcone è una splendida vista mare È vero, gli spazi non mancano, vero Roberta? Assolutamente no, ci sono tantissimi spazi sia all'interno che all'esterno, come vedete appunto la piscina abbiamo l'area della palestra, abbiamo i parcheggi, abbiamo l'area ping pong, il biliardo, tantissimi servizi a disposizione di tutti i nostri clienti e un'attenzione anche alla parte diciamo sportiva, tante persone scelgono il Cormoran anche per la bicicletta naturalmente, abbiamo tanti spazi a disposizione per sistemare le biciclette, abbiamo una sala polivalente, polifunzionale dove possiamo ospitare gruppi anche di ballo, di tutti i generi, arti marziali, abbiamo in casa di tutto, insomma, motociclisti e anche per eventuali conferenze Conferenza assolutamente, sì certo Certo, un altro punto che un po' invidiano è anche l'ottima cucina La cucina sicuramente è un punto di forza dell'albergo, abbiamo uno staff in cucina che si ripete da anni quindi già collaudato, offriamo dei menu a scelta tutti i giorni con dei buffet molto ampi, molto ricchi di verdure, antipasti pesce e carne tutti i giorni e ce n'è per tutti Certo, allora qua le due donne, chiedo ancora a Roberta, il pubblico del Cormoran, una family, un giovane, per chi è il Cormoran? Il Cormoran è adatto a tutti, è adatto a gruppi sportivi, come si diceva prima, abbiamo avuto recentemente un gruppo di karateki è adatto per quelli che vanno all'autodromo, per coloro che invece fanno le manifestazioni a Riviera Orsis che è proprio qui e ovviamente le famiglie, quelle sempre non mancano mai famiglie, copie di giovani, persone più anziane, per tutti Certo, allora vado qua a sinistra e chiedo, facile posteggiare con la macchina al Cormoran? Assolutamente sì, perché abbiamo due ampi parcheggi proprio adiacenti all'hotel, un altro parcheggio a 100 metri circa e c'è posto per tutti E poi c'è anche una fantastica spiaggia? Spiaggia nostra privata infatti, che è gestita da Francesco, nostro nipote, c'è anche un bar molto trezzato, quindi la spiaggia è bellissima Il vantaggio della nostra spiaggia è che ha gli ombrelloni che sono staccati l'uno dall'altro, non sono proprio uno sopra l'altro, hanno molto spazio tra l'uno e l'altro Mi viene quasi da dire che è un grande albergo però a gestione familiare Assolutamente sì, siamo io e mio fratello che appunto dirigiamo tutto con passione da tanti anni Quindi voglio dire... È una garanzia Ecco, infatti, infatti Va bene, allora io direi che possiamo terminare così, trovate tutto sui siti internet, giusto? Sì, www.hotelcormoran.com E un telefono? 0541 95 12 87 Perfetto, quindi avete sito internet, telefono, non vi rimane che chiamare oppure andare a visitare il sito e chiedere di Roberta o Roberta o Valerio, tutto lo staff presente al Cormoran vi diranno tutto Grazie a tutti, buone vacanze, buon 2024 estivo Grazie 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 Grazie